Preghiera miracolosa a Maria per chiedere una grazia urgente Per implorare il tuo aiuto, Madre ammirevole Madre della Divina Grazia, vero conforto nel pianto L'Avvocato più dolce dei peccatori, costante presenza di Dio Abbi pietà di me e di tutti quelli che amo Cuore Immacolato di Maria, Tabernacolo e Tempio della Santissima Sede Del vostro potere, Sede della Sapienza, Oceano di Bontà Ottienici dallo Spirito Santo che il nostro cuore sia il tuo nido Dove riposare per sempre Portami quello che mi serve così tanto Quella che con tutto il fervore della mia anima chiedo Per i meriti di Gesù e per i meriti vostri Se è per la gloria della Santissima e il bene della mia anima Vengo a te, vengo a chiedere la tua potente intercessione In questo difficile bisogno Per ottenere la soluzione a questo problema impossibile Che mi provoca tanta disperazione E lo trovo irraggiungibile con le mie forze Amen